Eccoci qua in una nuovissima Beckerum Ecumenica, finalmente siamo tornati e siamo presso la villa Richelmi o Rischelmi, dipende dai punti di vista Guardate il panorama Bel panorama Ok ragazzi di qua C'è una porta che scende C'è una porta che va nelle catacombe, va nell'inferno va Mi sai no Si è bloccato? Si può andare Si può andare Oh wow No, sono i ragni Raga, torcia Torcia, torcia, aiutali Luce, duce, duce Duce, duce Torcia, ma dopo un po' si spegne da sola Il duce contro luce No raga, c'è ragione No, scarica non è scarica Ma no, perché ci sono le presenze maligne Che te la fanno spegnere No, no, frate, le presenze maligne Aspetta, c'è il diavolo È bollente per quello No, frate, ti spiego Ti spiego Devi avere Dio dentro lì Devi utilizzare il Cristo Vedi Un po' deluso Vabbè, io sono il cameraman Quindi, sapete già Che roba Oh, tutto molliccio Si, si torna indietro qua, tutto chiuso Dalla finestra Scusa, cercare dove Si, si torna indietro Si, si Si, si Ma senta di qua Ci teniamo sempre, c'è una scala Oh, se no, vediamo se c'è una porta di là Si, c'è un'altra finestra Si, c'è un'altra finestra, ma vediamo se c'è una porta Un po' di sveglia Ah, avete sentito, motosega S... Sega Allora basta fare questo salto What the fuck cos'è? L'inferno Dove porta qua? Un po' di rincone Ma semplicemente fai il giro easy Oh oh c'è un'entrata eccola Si è questa no Edward? E' chiuso Sbarrato Anzi proprio Murato E allora dalle finestre raga Ah ma c'è una scala là Per entrare E' quella là davanti Si Se l'hanno messo c'è un motivo Oh 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 Vada qua raga No ma sai Leo che secondo me di qua si va dove è Esattamente la mano ora No Si si guarda Non c'è Ma sono delle coperte delle cose Eh Non c'è niente vero? Ah da chi è che c'è la tarcia grave? Io ho il risalto più grosso di tutti Bravo Sono andato di spegnere Ho tirato sul tarciame Quella è proprio la La base? No la è l'isolamento Ma dove siamo a Catanzaro? Ehm 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 Questi sono gli ospedali assurdi Cosa cosa hai visto il diavolo Ma sai ci sia un'altra Non hai idea di cosa stiamo facendo La salita ecumenica Ragazzi c'è il cadavere di un nano Aspetta che stacco Eccoci qua, siamo saliti dalle scale Quanta roba Beh se volete un po' di tubo di mura Cos'è? Una motosega Si è quello che copri la sega Infatti Jason viene qua a depositarlo Ti faccio una sega Ma l'ho ordinato comunque La lanterna La lanterna La lanterna sta giù Eh si dai andiamo qui all'inferno Non ci dividiamo come Scooby-Doo Ma non c'è niente di qua Raga un'ottima idea, dividiamoci Perfetto 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 Nasir sai cosa ci sono qua? Dai dimmi Brutti Che è sto coglione Ragazzi c'è un bambino morto E' mio cugino Bambino morto Trovato Cos'è che l'Ogampone diventa come monte? Eh, non ho fatto così tanto Dai, avete capito Ma Tu sai che potresti toglierle e ci cadere a casa addosso Sì Molto probabile Quindi raga cosa stai facendo? Cosa c'è dentro? Amianto Finalmente abbiamo trovato il luogo di YaraGam Vabbè raga ma l'amianto è uscito dopo vent'anni che lo respiri no? Fatemi andare con la telecamera a riprendere l'amianto Raga, i cadaveri di Sarascazzi Ma che cazzo Warly È saltata ve lo giuro è saltata Andiamo Ma che cazzo è? Io me le mangio Sono proteine E' finito il buco Questa parte del fango non c'è niente Cosa c'è dentro? Posso vedere io che non ho visto Ma vuoi vedere quattro muri? Bello, molto bello Grazie Possiamo andare, ci vuol stare dietro lui Dai ciamacin Il momento che ti distrutta ce l'ho Minchia C'è ancora Lì Ray ancora No Artè vediamo poi Sì 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 Qui è tutta la cosa Un po' è Un po' è Un po' è Nooo Assoluto Oh What the fuck? Ma quanti fogli? Ma andate di pagamento Ma tengono queste scale? No Qua c'è nascosto il cognome di Franceschi Rotti Vare una volta magari Nooo Raga io peso 90 kg Ci son salito quindi Un'attività di stabilizzata Esatto Loro danno il colpo finale Ma c'è un'altra scale Ma dove? Ma che cazzo? Ancora su si sale La torretta per la mazzare di nemici Quanto? C'è un crew code Zitti tutti zitti E' lì Questo è il nido d'aper Questo è il nido d'aper C'è stato l'aper No no Questi sono più di una Qui erano troppo rumore Era una Era una Era un calabrone Non era un calabrese Era un calabrese Vabbè 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 Si capisce tutto eh Ci sono delle scale eh di la Per scendere Vanno ancora giù Si Porta dell'inferno Porta dell'inferno Porta dell'inferno Guarda qua Vai Dario Fatti coraggio Si si Ah no Si torna indietro Si 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 torna indietro Buona raga è finita la villa Qua c'è Una stanza Qua c'è una stanza Si Qui C'è qua nientro Comunque interessante Non c'è anche un bagno qua dentro No no c'è So Si è già finita la villa Si è già finita Che triste Ma laANC Guardi No Qualsiasi Qualsiasi Valutazioni Che Sette meno un po' 7 meno addirittura sono un po' troppo è 7 meno no perchè è tenuta bene noi non vediamo la foto c'è di pezzo tra no qua è tutta l'acqua cazzo niente nero niente ci hanno lasciato la solda urbex torni urbex sta ok scopri non è più urbex è backroom ormai incolonizzato si è veramente brutta forse è la più brutta che abbiamo fatto il video fa cagare comunque io voto gli darei forse 6 o meno 6 c'è un'altra parte dove è? di là c'è un'altra parte non si può accedere? no prende la scala brava ehi top g top g saltino ecumenico no 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 non mi sono fatto niente è che vado a una mano ho la telecamera da una ragazzi questo backroom fa veramente schifo è orribile non avrei dovuto neanche fare il video però ormai l'ho fatto e lo caricherò su youtube non venite in questo posto è triste ed è brutto oh wow si guarda di fare parco sul legno veramente la stanza prima di la stanza si la stanza di legno vai cerco io ho one hand pro ecumenico pro come cazzo c'è risa fra ci fai rincare un salto salto della fede sai che sopra questa cosa? salto che comengo sopra la metti in piedi su quella Gabri se mi fai spazio ci provo io dalla salta a lui un po' di rincorsa dai Gabri dai che ci sei dai che sei la dai 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 ci sei ci sei ci sei ci sei ci sei forza aiuto fallo per l'ecumene eccolo eccolo eiii qua non c'è nessun modo da accendere ok attenti c'è un buco fino alle scale ok attenti c'è un buco fino alle scale ma minchia ma so se è ripido se si qui ok attenti c'è un bucchino c'è un bucchino qua perchè ecco ah io sono in lato in bruciata ma solo quello dai 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 si anche sopra hai qua i speaker oh qua fanno i rincare anche qui anche qui tu non lo faresti non lo faresti qui dentro vabbè io qua quindi l'altra parte era questa si si è ancora più triste qui grande questo punto che l'avamo quindi di qua non c'è niente no guarda questo caso il problema ah ok penso che aggno 7 quello forse un 6 ma io ho preso anche un 3 no io devo 5 dai un po' che secondo te non c'è niente cosa è una cosa non c'è niente ma non c'è niente no è una cosa è una cosa è una cosa non c'è niente è una cosa Guarda ragazzi, un giorno tutto questo sarà tuo. Un giorno è mio, socio. Tutto quello che tocca il sole è mio. Ma poi riesci a mandarmela? Sì, sì, sì. Dopo mi chiede questa cosa. Vuoi fare? Strano. Tutto sul gomito. Qui. Sposto, te lo sei tolto. Ragazzi, plot twist ecumenico. C'è una back room vicino alla back room. Ora andremo a vedere se è un flop o se è un top. Ok, il signore non c'è più nell'altare ma rimane nell'anima. Non ha forme. Sì. Niente plot twist ecumenico. Che cazzo vai con una racchetta tu? Ma da dove cazzo? Ma da dove cazzo? Ma se va da un'altra parte dove eravamo prima, c'è una porta. Ah. E il posto dove eravamo prima, c'è un'altra porta. Oh, racchetta ecumenica. Ragazzi che è mappato. Questa è che non finita. Addio racchetta. Buona vita. Ok. 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 So. Ak